Ben trovati a ore 7, il momento dell'ospite e prima di parlare dell'argomento di oggi, volevo mostrarvi la copertina del lifestyle che troverete da oggi in edicola assieme al Friuli, Adrenalina e Relax. Quest'estate godetevi la montagna friulana, tante le proposte per viverla, con sport, nuovi e originali. Per dormire ecco i rifugi a 5 stelle. Perché abbiamo aperto il momento dell'ospite con questa pagina? Perché oggi presentiamo il Neve Outdoor Festival, che si apre appunto questa sera con Silvia Rossi, proprio dell'organizzazione di Neve Outdoor Festival. Buongiorno. Ecco, innanzitutto cos'è questo festival e qual è il suo obiettivo? Allora, innanzitutto siamo alla terza edizione del Neve Outdoor Festival, è una grande festa dello sport all'aria aperta, in particolare in montagna. E' nato dall'idea di un gruppo di amici che sono in questo momento tutti su in montagna. A preparare. E' un'iniziativa che è nata anche a seguito dell'incidente di Leonardo Comelli in Pakistan, che era uno degli ideatori di questo grande festival, e a cui è dedicato anche un concerto sabato sera, quindi domani sera. Con Mickey, Martina e i Blues Factory. Esatto, a partire dalle 19. E poi Mickey, Mickey e Martina e le sue musica sono proprio dedicate alla montagna, quindi il tema è proprio quello. Allora, cominciamo dalle notizie di servizio. Si parte stasera alle 19. Alle 19 ci sono i saluti istituzionali, seguirà poi una conferenza, un seminario dedicato proprio alle Alpi Giulie, scoperta delle Alpi Giulie, il titolo è incontro tra parchi, gente e animali. Ci sono degli accademici dell'Università di Udine, il direttore del parco delle Prealpi Giulie, e degli esperti, un esperto della cultura della Varresia. E poi c'è Michael Kemeter. C'è Mike Kemeter, che è un base jumper, climber di fama mondiale, direi, che si racconterà le sue imprese, imprese anche a limiti proprio del brivido, perché pratica anche il frissolo, che è appunto arrampicare slegati, quindi senza corda, senza nulla. Quindi proprio senza rete, senza rete. E seguirà poi un buffet, un piccolo concerto offerto dall'organizzazione, sempre stasera. Sempre stasera. Ecco, però vediamo cosa propone e chi ci può andare. Innanzitutto ci può andare chiunque, anche i bambini. Certo, allora gli obiettivi della manifestazione sono essenzialmente due, far conoscere la nostra montagna, le Alpi Giulie, a quante più persone possibile, quindi far vedere anche le potenzialità che hanno le turistiche, ma anche sportive, che ha la nostra montagna, e poi far capire che la montagna è per tutti. L'importante è saperci andare. Esatto, sì, perché tutte le attività che faremo sono per i più piccoli, ma anche per persone adulte, anzi, soprattutto per persone adulte, ma soprattutto per i piccoli, perché ci saranno delle guide alpine, speleologiche, degli istruttori di mountain bike, ci sono i maestri di sci che insegneranno a sciare anche ai più piccoli. Ecco, c'è anche il baby climb, quindi anche i più piccoli possono cominciare proprio da tenerissima età di 4-5 anni. Assolutamente, anzi è molto indicato, molto indicato per la coordinazione, per tutto. Ecco, io leggo, sono ignorante in materia, che sono molto sedentario, e leggo tra le varie discipline il bouldering e le vie lunghe multi-pitch. Ecco, vediamo cosa sono, perché immagino che siano tante persone come me che non hanno alba di questa cosa. Si tratta di arrampicata. Arampicata, bouldering è su massi, su rocce, sono state tutte censite dagli organizzatori, quindi chi vorrà andare a fare bouldering avrà a disposizione appunto proprio una cartina dove vengono indicate tutte le vie, c'è la falesia, anche questa appunto organizzata, sistemata dai ragazzi che sono su dalle guide alpine, e poi in molti più ci si intendono vie più lunghe, quindi di più tiri, ok? Semplicemente questo. Ah, nulla di trascendentale, no? Nulla di trascendentale. E una cosa che devo sottolineare, c'è tutta la parte speleo, quindi ci sono... Anche nelle grotte si va? Assolutamente, ci sono le guide speleologiche della commissione appunto di Trieste, ricordiamoci che il Canin è una delle zone carsiche per eccellenza e anche più interessanti dal punto di vista speleologico d'Italia. Ecco, uno in solito pensa al Carso e pensa al Carso Triestino. Assolutamente no, il Canin ha delle grotte lunghissime, anzi è stata scoperta un po' di anni fa una delle grotte più lunghe proprio d'Italia, quindi ci saranno questi ragazzi che seguiranno sia per percorsi più semplici ma anche per percorsi ovviamente più avanzati, c'è la possibilità di fare delle calate e delle risalite in corda, quindi passare attraverso cunicoli, meandri, poi adesso la speleologia con gli ultimi fatti di cronaca è saltata un po' alla ribalta, no? Certo. Mi sembra. Ecco, dove abbiamo parlato di venerdì? Vediamo sabato. Io leggo qua nel programma diverse cose, guide naturalistiche, col bivaco, quindi si andrà in giro a vedere anche la botanica. Domani mattina alle 10 mi sembra che parta l'escursione. Sabato mattina alle 10? Sì, domani mattina alle 10 parte questa escursione che porta al bivaco Marusic, si passerà per il ghiacciaio del Canin, i due ghiacciaio anzi del Canin, S-Oves, che sono siti nella parità nord del Canin, quindi grazie al supporto delle guide naturalistiche messe a disposizione dal parco delle prealpi Giulie, ci sarà questa escursione, e inoltre ci sarà anche un'escursione botanica, quindi con guide naturalistiche che faranno vedere, diciamo, le piante che ci sono. Esatto. In particolare nella zona del Bilapet. Ecco, workshop di High Line e Slack Line, cosa sono? High Line e Slack Line si sono viste, qua nelle immagini mi sembra, sono delle corde che sono tirate tra due punti fissi, Slack Line è, diciamo, a quote più basse, High Line invece a quote molto alte. Sì. L'anno scorso, ecco, è proprio questa immagine dedicata, sia all'High Line, e workshop perché ci saranno delle persone proprio esperte. Che spiegheranno. Eh sì, sì, guide alpine, che spiegheranno come approcciarsi anche a queste attività. Ovviamente in assoluta sicurezza, perché si vede siamo legati, quindi non c'è assolutamente... Non c'è pericolo. No, di nessun tipo. E poi a 19, appunto, c'è il... C'è il concerto, il Rombos Fest, appunto, in onore dedicato al nostro amico Leonardo Comelli. Leonardo Comelli, scomparso anni fa. Ecco, poi passiamo a domenica 22, ci sono sempre escursioni... Beh, si parte con la Sky Race, quindi la famosa gara di corsa in montagna che ripercorre i percorsi della Grande Guerra, avrà un dislivello di 1700 metri per uno sviluppo di 18 chilometri e passerà anche per il Rifugio Gilberti. Appunto è importante menzionare i rifugi che fanno da base il Rifugio Gilberti in quota con Caprivala, ma anche il di Visione Iulia e il di Brazzà sui piani del Montasio. Del Montasio. Si potrà fare anche mountain bike, ovviamente. Sì. Sia sul Canin, ma anche sul Montasio. E poi vedo in tutti i due giorni, a parte l'arrampicata per i bambini, quella che avevamo già dato, la yoga. Sì. Serve per stare meglio o anche per arrampicare meglio? Con l'aria pura che c'è in montagna si riesce anche a respirare meglio, a iperventilarsi, quindi insomma sicuramente porta beneficio questa pratica a tutto, il benessere a tutto l'organismo. E in più acroyoga. Ovviamente non è per tutti l'acroyoga, perché si sta per yoga acrobatico e quindi si faranno dei movimenti, un'attività che sicuramente... Bisogna essere preparati, bisogni essere presi. Fisicamente, sì. Per proposito di preparazione, cosa deve portarsi il profano che viene al Neve Outdoor Festival? Allora dicevamo, la montagna è per tutti, ovviamente è in sicurezza, però ci sono degli accorgimenti, in questo caso banali, semplici. Il tempo sarà variabile e quindi bisogna sicuramente portarsi nello zaino un cambio, una giacca Gore-Rotex in previsione, magari di un temporale estivo, sì, anche di passaggio. Poi per chi vorrà fermarsi su, guardate le tende appunto della Conca Prevala, per chi vorrà fermarsi per notare su, ovviamente tende a sacco a pelo, insomma le dotazioni, anche se il rifugio metterà a disposizione la parte logistica e poi alcuni posti letto, esatto. Ecco, quindi ricordiamo, si parte questa sera alle 19.30, a chi vuole postare anche tutti i tre giorni a contatto con la natura, senza tecnologie, senza orpelli tra i piedi. Sicuramente non ci si annoia, perché ci saranno stand anche enogastronomici, oltre a stand di partner tecnici. Ah sì, ricordiamo un'altra cosa, ci sarà lo stand del Condor di Cormons, che metterà a disposizione gratuitamente sci e scarponi per lo sciapinismo, perché quest'anno si potranno fare anche due curve in Conca Prevala, quindi sicuramente ce n'è per tutti i gusti. Benissimo, io ringrazio molto Silvia Rossi, che è stata qui oggi con noi, mi raccomando, se avete tempo, se avete possibilità, andateci perché... Ti aspetto in quota. E ci vediamo in quota, grazie mille di essere stata con noi, e noi invece ci prendiamo un paio di minuti di pausa con la pubblicità, rimanete con noi a tra poco. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.